Ciao, seconda parte di trigonometria, cioè dopo i due teoremi fondamentali dedicati ai triangoli rettangoli, oggi parliamo dei triangoli qualunque, cioè triangoli non necessariamente rettangoli. C'è qualche teorema da vedere al riguardo, sono cose tutte molto semplici e che vedo oggi vengono dimostrate in maniera un po' diversa da quella che vedrai qua. Sempre lo scopo delle mie video lezioni è anche quello di fare qualcosa di originale dal punto di vista didattico, non certo ripetere perissequamente quello che potresti trovare in un qualunque testo. Allora, per quanto riguarda i triangoli qualunque, è meglio che insegnarti subito la permutazione ciclica degli indici. Ti farò vedere fin dal primo teorema, cioè il teorema di Eulero, sui triangoli qualunque, che in trigonometria sempre noi possiamo permutare ciclicamente gli indici, cioè che significa? Se in una qualunque relazione trigonometrica io al posto di alfa metto beta, al posto di beta metto gamma, al posto di gamma metto alfa, ottengo sempre una relazione vera. Questa si chiama permutazione ciclica degli indici, vedi? Cioè ad alfa possiamo sostituire beta a beta gamma e a gamma di nuovo alfa. Ecco perché si chiama permutazione ciclica dei simboli. Permutazione ciclica dei simboli. Ovviamente non avviene soltanto con gli angoli, ma avviene anche con le misure dei lati. Cioè possiamo fare benissimo, anche così, a A, ad A sostituiamo B, a B sostituiamo C, a C sostituiamo A. Vedi? Permutazione ciclica dei simboli. La faremo fin dal teorema di Ulero, ma dal teorema delle proiezioni, teorema di Carnot, eccetera, in qualunque relazione trigonometrica noi possiamo utilizzare questa permutazione ciclica dei simboli. Se facciamo questo scambio che ti ho appena detto, da una relazione vera otteniamo una relazione ugualmente vera. Allora, vediamo quindi il primo teorema sui triangoli qualunque, che si chiama, c'è, in qualche testo tu lo vedrai chiamato teorema delle corde, qualche altro testo teorema di Ulero, io lo chiamo o teorema dei seni, noi lo chiamiamo, io lo chiamo teorema di Ulero, e nella dizione teorema di Ulero conglobo sia il teorema delle corde che il teorema dei seni. Teorema di Ulero, vediamo di che si tratta, anzi, ti dirò prima in serie di introduzione, il teorema di Ulero considera un triangolo qualunque inscritto in una circonferenza, quindi qualunque triangolo, perché ti ricordo che un teorema della geometria elementare afferma che un triangolo, un qualunque triangolo, è sempre sia inscrittibile che circoscrittibile ad una circonferenza. Quindi, se io considero un triangolo qualunque, comunque inscritto in una circonferenza, non ledo la generalità del concetto di triangolo alla quale mi sto riferendo. Chiaro? Allora, consideriamo appunto una circonferenza nella quale inscriviamo un triangolo qualunque, per esempio questo, i vertici li chiamiamo sempre A, B e C, anche se non si tratta più di un triangolo rettangolo, diciamo O, il centro della circonferenza. Quindi diremo, alfa l'angolo di vertice A, beta l'angolo di vertice B e gamma l'angolo di vertice C. Queste convenzioni sono simili a quelle che facevamo nei triangoli rettangoli. Chiaro? Allora, praticamente noi che cosa possiamo dire? Consideriamo il, per esempio, il triangolo, questo triangolo qua. Consideriamo un diametro e poi il triangolo, vedi, che io ti costruisco in tratteggio. BC A' chiamiamolo, A' BC, vedi? Il triangolo B'C è un triangolo sicuramente rettangolo. O è il centro della circonferenza. E B' è un diametro. Chiaro? Allora, perché B'A'C è un triangolo sicuramente rettangolo? Sai dalla geometria elementare che un triangolo iscritto in mezza circonferenza è sicuramente rettangolo. Chiaro? D'altronde, sappiamo anche dalla geometria elementare che angoli della circonferenza che insistono sul medesimo arco sono uguali. Quindi, nel triangolo B'C, B'A'C, triangolo rettangolo in C, tra l'altro, nell'angolo di vertice C, ma considerato come vertice del triangolo B'C, B'A', cioè il diametro della circonferenza, sarà l'ipotenusa. E quindi, questo B'A', la misura di B'A' possiamo indicarla con due R, no? Perché se è il diametro della circonferenza che fa l'ipotenusa del triangolo rettangolo B'A'C, è chiaro che sarà il doppio del raggio. Diciamo R, ovviamente, è la misura del raggio della circonferenza circoscritta al triangolo. Cosa notiamo? Notiamo che l'angolo in A e l'angolo in A' devono essere necessariamente uguali. Perché? Perché sono angoli alla circonferenza che insistono sul medesimo arco. Sappiamo dalla geometria elementare che sono uguali. Ma, al triangolo B'A'C, ecco, consideriamo il triangolo B'A'C. Questi due punti, al solito, vogliono dire, consideriamo il triangolo, eh, non sto facendo una divisione. B'A'C, che cosa scriviamo? Se applichiamo il primo teorema fondamentale sui triangoli rettangoli, io posso scrivere, vedi che nel triangolo rettangolo B'A'C, B'C e A'C sono i cateti e B'A' è l'ipotenusa? Bene. Allora, il cateto B'C, la misura del cateto B'C sarà uguale al prodotto della misura dell'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto. Cioè, praticamente, la misura di B'C sarà uguale a B'A', che è appunto l'ipotenusa, per il seno, chiamiamolo alfa' primo. Per il seno di alfa' primo. Mi spiego? Ma sappiamo già che alfa e alfa' primo sono uguali per chi angoli alla circonferenza che insistono sul medesimo arco, l'arco ovviamente B'C, e quindi io qui posso scrivere B'A' per il seno di alfa. Ma B'A' so benissimo che è il diametro della circonferenza, e quindi qui posso scrivere 2R seno alfa. Ci siamo? Quindi, anche se ho considerato il triangolo B'A'C, praticamente ho ottenuto un risultato sul triangolo ABC, perché se vediamo il triangolo ABC, io vedo che posso scrivere che la misura del lato BC è uguale a che cosa? A 2R per seno alfa. E però, attenzione a una cosa, siccome la misura, il lato BC, la misura di BC, noi possiamo chiamarla A, perché è opposta all'angolo alfa, la misura di AB la potremmo chiamare C, perché è opposta all'angolo gamma, la misura di AC, parliamo adesso del triangolo dato, cioè del triangolo ABC, la misura di AC la chiamiamo B, perché è opposta all'angolo beta. Quindi, la misura di BC, noi la chiamiamo A. Quindi, vedi, nel triangolo ABC noi praticamente abbiamo ottenuto che A è uguale a 2R seno alfa. Ci siamo? Ecco, abbiamo dimostrato praticamente il teorema di Olero, che io ora ti enuncerò come appunto lo chiamo il teorema di Olero, però ti devo dire quel discorso della permutazione ciclica dei simboli. Cioè, io, vedi, O, ti ho dimostrato un risultato sulla misura A del cateto BC, del lato BC. Avrei allo stesso modo potuto ragionare sul cateto AC o sul cateto AB. Se avessi ragionato sul cateto AC avrei ottenuto B uguale a 2R sen gamma. Chiaro? 2R sen gamma. Allora, praticamente, che cosa significa? La permutazione ciclica dei simboli. Vedi, se io ad A sostituisco B, a alfa sostituisco beta, e poi se a beta sostituisco gamma, a B sostituisco C, ottengo delle espressioni, delle relazioni ugualmente valide. Ecco il primo esempio di permutazione ciclica dei simboli. Allora, ritorniamo al primo ABC, alla misura di BC. Se A è uguale a 2R sen alfa, ovviamente io posso anche scrivere A fratto sen alfa uguale a 2R, no? Ma se prendo la seconda relazione potrei scrivere B fratto sen beta uguale a 2R e se prendo la terza potrei scrivere C fratto sen gamma uguale a 2R. E allora, vedi, in questa forma il teorema va sotto il nome di teorema dei seni, cioè in ogni triangolo rettangolo è costante il rapporto fra la misura di un lato e il seno dell'angolo opposto. Ma noi unifichiamo insieme teorema dei seni, teorema delle corde, teorema di Eulero, come lo vuoi chiamare, e possiamo dire che il teorema di Eulero afferma che in un qualunque triangolo è costante il rapporto fra, ecco io direi così, te lo scrivo, in un qualunque triangolo, in un qualunque triangolo è costante, è costante il rapporto fra la misura di ciascun lato, di ciascun lato, e il seno dell'angolo opposto, dell'angolo opposto, virgola, e pari, e non verbo ma congiunzione, e pari, c'è questa costante, vedi qua, A fratto sen beta, B fratto sen beta, B fratto sen beta, C fratto sen gamma, a che cosa è uguale? A 2R, che è il diametro, quindi possiamo dire pari al diametro, al diametro della circonferenza, della circonferenza circoscritta, circoscritta al triangolo, chiaro? Ecco, io questo lo chiamo cumulativamente, no, teorema di Eulero, quindi al prezzo di un solo teorema noi ne facciamo tre, quello che comunemente viene chiamato teorema dei seni, oppure teorema della corda, oppure teorema di Eulero, teorema di Eulero, in un qualunque triangolo è costante, il rapporto fra la misura di ciascun lato è il seno dell'angolo opposto, è pari al diametro della circonferenza circoscritta al triangolo, ecco, ovviamente se anziché tre teoremi tu pensi che siano uno soltanto, e li enunci tutti e tre una volta, è chiaro che economizzi la tua memoria, e la utilizzi meglio, va bene? Quindi possiamo prendere qualunque lato, la misura di qualunque lato, la dividiamo per il seno dell'angolo opposto, perché ti ricordo che alfa è l'angolo opposto al lato che misura A, beta è l'angolo opposto al lato che misura B, gamma è l'angolo opposto al lato che misura C, questi rapporti, siano essi A frattose in alfa, B frattose in beta o C frattose in gamma, sono comunque sempre uguali a 2R, cioè il diametro della circonferenza circoscritta. Passiamo al secondo teorema. Il secondo teorema, ecco, mi pare che adesso vada poco di moda, però io ti consiglio di impararlo, che si chiama teorema delle proiezioni, proiezioni. Allora, che significa? Consideriamo un triangolo qualunque. Triangolo qualunque, quindi A, B, C. Consideriamo l'altezza di questo triangolo qualunque relativa alla base B, C, e quindi la chiamiamo, come ogni brava altezza che si rispetti, la chiamiamo H. Mi spiego? Ovviamente tu sai che B, C è uguale, cioè tu sai, tu lo vedi pure, che B, C è uguale a B, H più H, C. Dunque, risultato che potrebbe essere valido anche per le misure, no? Cioè potremmo scrivere così. In questo triangolo, siccome alfa è l'angolo di vertice A, beta è l'angolo di vertice B e gamma è l'angolo di vertice C, è chiaro che, sempre utilizzeremo cioè questa convenzione, perché si chiama teorema delle proiezioni? Perché ora ti farò vedere quant'è B, C, visto come B, C, visto come somma fra B, H e H, C. Questo perché? Perché B, H è la proiezione ortogonale di A, B su B, C e A, C è la proiezione ortogonale e H, C è la proiezione ortogonale di A, C su H, C. Ecco perché si chiama teorema delle proiezioni. Allora, B, C, il lato B, C, anzi, una cosa, A, B, la misura di A, B, dobbiamo chiamarla C. La misura di A, C, dobbiamo chiamarla B. La misura di B, C, dobbiamo chiamarla A. Va bene? Non è l'ipotenusa in questo caso perché A, B, C non è un triangolo rettangolo, però chiamiamo sempre A. Allora, come faccio a esprimere B, C come somma di BH e DHC? In modo semplicissimo perché se consideriamo il triangolo rettangolo ABH, vedi? Perché l'altezza H divide questo triangolo ABC qualunque in due triangoli rettangoli, ABH e ACH, o AHB e HC, che dir si voglia. Va bene? Nel triangolo rettangolo ABH, al solito i due punti non indicano una divisione ma semplicemente un consideriamo il, consideriamo il triangolo ABH, che cosa possiamo scrivere? Possiamo scrivere che BH, che è un cateto, è pari al prodotto della misura dell'ipotenusa, che è AB, per il coseno dell'angolo beta, perché vedi beta è adiacente a BH, quindi dobbiamo utilizzare il coseno, non il seno. Chiaro? Quindi la misura di BH è uguale la misura di AB per il coseno di beta. La misura di AB al solito la chiamiamo C e quindi scriviamo C cosen beta. Ci siamo? Consideriamo ora il triangolo AHC, il triangolo a destra, no? Il secondo triangolo rettangolo cui dà luogo l'altezza AH. Allora, in questo triangolo rettangolo AC sarà l'ipotenusa e HC invece è il cateto che noi, la cui misura noi vogliamo calcolare. HC a che cosa sarà uguale? Ad AC per il coseno di gamma, perché qua l'angolo adiacente è gamma ad HC. Mi spiego? La misura di AC la chiamiamo B e quindi scriviamo B cosen gamma. Ci siamo? Allora, la misura di BC, che altro non sarebbe che A, ha che cosa uguale? È uguale, abbiamo detto, a BH più HC. La misura di BH più la misura di HC. La misura di BH ti ho fatto vedere che è C cosen beta. C cosen beta. La misura di HC ti ho fatto vedere che è B cosen gamma. Ed ecco che abbiamo la misura del lato BC in funzione delle proiezioni degli altri due lati su di esso. Ecco perché si chiama teorema delle proiezioni. Quindi noi possiamo dire che il teorema delle proiezioni esprime ciascun lato di un triangolo in funzione delle proiezioni su di esso degli altri due lati. Ecco una bellissima applicazione della permutazione ciclica dei simboli. Ora che io ti ho dimostrato che la misura A è uguale a questa, la misura B non te la devo dimostrare di nuovo. Te la calcolo con la permutazione ciclica dei simboli, così come anche C. Vedi? B ha che cosa uguale? Se al posto di A metto gamma, al posto di B metto C e al posto di gamma metto alfa. Poi da qui permuto ciclicamente un'altra volta e quindi al posto di A metto B, al posto di gamma metto alfa, al posto di C metto A e al posto di alfa metto beta. Ecco qua che abbiamo il teorema delle proiezioni al completo. Cioè ciascun lato, il teorema delle proiezioni, quindi diciamo, esprime ciascun lato di un triangolo qualunque in funzione delle proiezioni su di esso, delle proiezioni ortogonali su di esso, degli altri due lati. A uguale C cosen beta più B cosen gamma, B uguale A cosen gamma più C cosen alfa e C uguale B cosen alfa più A cosen beta. Teorema delle proiezioni. Chiaro? Penso di sì. Ho appena dimostrato il teorema delle proiezioni. Uno dei teoremi forse più importanti di tutta la matematica e di tutta la fisica, cioè il teorema di Carnot si dimostra immediatamente. Perché dobbiamo tener conto del teorema delle proiezioni. Guarda come si dimostra il teorema di Carnot che è un risultato su un triangolo qualunque. Prendiamo il teorema delle proiezioni, dice Carnot, e moltiplichiamo la prima relazione per A, la seconda per meno B e la terza per meno C. Guarda l'effetto che fa. Allora, se io prendo la prima relazione A uguale C cosen beta più B cosen gamma e moltiplico a due membri per A, ottengo A quadro uguale a C cosen beta più AB cosen gamma. Chiaro? La seconda la moltiplico per meno B e quindi viene meno B quadro al primo membro e al secondo membro meno AB cosen gamma meno BC cosen alfa. Ci siamo? La terza relazione la moltiplico per meno C e allora abbiamo meno C quadro uguale meno BC cosen alfa meno AC cosen beta. Chiaro? O. Ottengo queste tre relazioni sui lati di un triangolo qualunque e sono vere ovviamente tutte e tre. Dal momento che ho tre relazioni vere io posso sommarle membro a membro. Guarda che succede. Al primo membro ottengo A quadro meno B quadro meno C quadro. Quindi A quadro meno B quadro meno C quadro. Al secondo membro cosa otteniamo? Quando andiamo a sommare vedi che questo A cosen beta si eliderà col meno A cosen beta della terza. Questo si eliderà perché è una somma algebrica che noi facciamo. Il più AB cosen gamma della prima si eliderà col meno AB cosen gamma della seconda. Alla fine che resta? Alla fine ci resta meno BC cosen alfa della terza meno BC cosen alfa della seconda meno BC cosen alfa della terza. Sono due fattori uguali quindi possiamo scrivere meno 2 BC coseno di alfa. Chiaro? E allora io da qui scrivo A quadro uguale B quadro più C quadro meno 2 BC cosen alfa. Ed è la formula che esprime il teorema di Carnot. Ovviamente per permutazione ciclica dei simboli si possono ottenere B quadro e C quadro. Anzi te lo scrivo. B quadro uguale. Vedi qui verrebbe A quadro e qui BC quadro e quindi facciamo così. La quadro deriva da C quadro e B quadro deriva dalla permutazione ciclica. meno 2. Qua abbiamo AB meno 2 AC perché B permuto ciclicamente diventa C. C diventa A e quindi abbiamo C coseno di beta e permutando ciclicamente questa seconda relazione abbiamo C quadro uguale A quadro più B quadro meno 2 AB cosen gamma. Quindi cosa dice il teorema di Carnot? Vediamo magari semplicemente la prima delle due. In un triangolo qualunque il quadrato della misura di un lato è pari alla somma dei quadrati delle misure degli altri due lati diminuita del loro doppio prodotto doppio prodotto per il coseno dell'angolo tra essi compreso. Quindi in un triangolo qualunque il quadrato della misura di un lato è pari alla somma dei quadrati degli altri due lati diminuita diminuita del doppio prodotto fra questi e il coseno dell'angolo tra essi compreso. fra questi perché l'angolo alfa ti ricordo vedi è l'angolo compreso fra il lato che misura B e il lato che misura C. Vedi? Alfa. Chiaro? Così come beta è l'angolo compreso fra il lato che misura A e lato che misura C e gamma è l'angolo compreso fra il lato che misura A e il lato che misura B. Ci siamo? Quindi in un triangolo qualunque il quadrato della misura di un lato è pari alla somma dei quadrati degli altri due lati diminuita del doppio prodotto fra questi e l'angolo fra essi compreso. E l'angolo fra essi compreso. Chiaro? Bene. Dobbiamo concludiamo con una cosa semplicissima. Concludiamo questa rapidissima carrellata di trigonometria con una bellissima cosa finale. Il teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora che tu forse hai solo imparato a memoria a partire dalla scuola media si dimostra immediatamente a partire dal teorema di Carnot. Il teorema di Pitagora è un caso particolare del teorema di Carnot quando il triangolo anziché essere qualunque è un triangolo rettangolo perché vedi e questo poi te lo posso fare vedere anche al contrario ma è semplicissimo. Cosa dice il teorema di Carnot? Dice che in un triangolo qualunque a quadro uguale a B quadro più C quadro meno 2 meno 2 B C coseno di alfa. Vedi questa formula è la formula che esprime il teorema di Carnot. Ah a proposito il teorema di Carnot si chiama anche teorema del coseno no? Perché compare il coseno di un angolo. A quadro uguale a B quadro più C quadro meno 2 B C coseno alfa. Allora poniamo il caso che il triangolo qualunque non sia più qualunque ma sia rettangolo. Rettangolo magari proprio in alfa. Quindi abbiamo l'angolo alfa che è il retto, l'angolo beta e l'angolo gamma. Mi spiego? Allora mi sapresti dire tu che cosa diventa il teorema di Carnot quando l'angolo alfa è retto. L'angolo alfa è retto ed è sempre l'angolo fra il cateto, questa volta possiamo parlare di cateti perché si tratta di un triangolo rettangolo, il cateto che misura B che è questo e il cateto che misura C che è questo. Vero? E allora da A quadro uguale B quadro più C quadro io avrei meno 2 B C coseno di alfa è 90 gradi, il coseno di 90 gradi. Tu sai benissimo che è 0, vero? No? E quindi questo prodotto va via. E allora alla fine che resta? Direbbe Loretta Goggi, sempre una espressione che viene spesso qua in matematica, alla fine che resta? A quadro... Loretta Goggi parlava della primavera, ma noi parliamo di matematica che è ugualmente bella, eh? A quadro uguale B quadro più C quadro. In ogni triangolo rettangolo il quadrato costruito sull'ipotenusa, appunto A quadro, è pari e equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. In un attimo... In un attimo si dimostra il teorema di Pitagora. Vedi Pitagora, la genialità della storia della filosofia greca. Carnot è molto successivo a Pitagora, vero? Eppure ha dimostrato il teorema di Carnot ha fatto un discorso molto più ampio e molto più generale, però onore, merito e vanto alla genialità di Pitagora che con duemila anni circa di anticipo aveva ottenuto un risultato eccezionale. Il teorema di Pitagora. Ecco, con questo finisce la nostra, diciamo, carrellata amichevole di goniometria e trigonometria. Arrivederci.